Nei giardini del Lazzaretto la sede della Liga Navale Italiana di Trapani durante un raduno della classe RSX il Windsurf Olimpico guardate con chi siamo allarghiamo l'immagine eccola qui la squadra azzurra del Windsurf Olimpico al completo ve li presento Mattia Camboni e dico Mattia Camboni Luca Di Tomassi Daniele Benedetti è come se ci fossero degli scrosci di applausi da casa voi immaginate questo Carlo Ciabatti Antonino Cangemi Niccolò Renna guardate che squadra veniamo da Roma Civitavecchia Lago di Garda Sardegna Sicilia quindi c'è un po' tutta l'Italia ma calatriatico in effetti questo dobbiamo farlo presente chi è il capo squadra chi è Dionizza che tiene un po' le fila di tutto questo Riccardo Belli dell'ISCA allenatore federale che sta governando insieme ai suoi colleghi questo raduno FIV qui nel centro federale lo possiamo dire a tutti gli effetti di Trapani dove vengono sono venuti durante l'inverno in Acre 17 anche altre classi è un po' un paradiso perché le condizioni sono davvero perfette raccontaci in particolare questi giorni di questo raduno in particolare un po' che momento è dell'anno è iniziato il 2020 che ci dice qualcosa 2020 anno olimpico 2020 anno olimpico e abbiamo scelto Trapani per venire a preparare quest'anno molto importante Trapani la Sicilia garantisce delle ottime temperature nei mesi freddi invernali e questo è il motivo per cui abbiamo scelto e delle ottime condizioni di vento in particolar modo in queste ultime settimane abbiamo avuto parecchie giornate di scirocco con temperature al di sopra della media che hanno consentito di poter svolgere degli ottimi allenamenti in acqua bellissimo si vede si vedono le Ega di Favignana Marettimo Levanzo facciamo un rimbalzo da un da un vertice all'alto di questa fila ripartiamo da Mattia che abbiamo detto anno olimpico tu di olimpiade te ne intendi perché ne hai già fatta una lo sappiamo Rio 2016 sei arrivato anche nella medal race adesso però qui è iniziato l'anno in cui è quello di Tokyo 2020 come ti senti come stai Mattia come come senti anche un po' la squadra perché tu in quanto in quanto ex olimpico sei anche un po' il capo squadra in per certi versi no? Ma non mi sento affatto il capo squadra dico la verità e siamo un bel gruppo sono ragazzi un po' più giovani che spingono molto e ci motivano moltissimo sono sempre pieni di energie questo diciamo aiuta a me e Daniele che magari siamo un po' più grandi per l'aliello personale penso che stiamo facendo un ottimo lavoro con Riccardo e con tutta la squadra lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter lottare per i posti più alti per i posti più importanti una medaglia anche in Giappone abbiamo dimostrato appunto di di essere lì davanti e portando a casa l'argento quindi continuiamo con con gli allenamenti e vedremo adesso in Australia a febbraio dove ci sarà il mondiale come a che punto siamo ebbene faremo presto il punto che cosa singolare sentir dire io e Daniele siamo i veterani cioè quanti anni avete Daniele 24 prossimo ai 25 quindi a 24 anni essere i i veterani della tavola a vela italiana significa veramente che siamo partiti molto presto ti senti anche tu come ha detto Mattia un po' così il il master di questa squadra beh certo noi abbiamo sulle spalle magari un'altra campagna olimpica in più rispetto a loro quindi abbiamo fatto più esperienze loro sicuramente hanno avuto modo di crescere rispetto con noi e paragonandosi a noi soprattutto quindi hanno avuto davanti qualcuno mentre invece Mattia abbiamo fatto tutto da zero grazie a Kikko che ci ha allenato lui tutto da zero e qual è la tua sensazione come ha detto lui insomma a che punto sentite di essere tutte e due quest'anno mi sono sempre posizionato a livello europeo mondiale nel top 10 settimo mondiale ottavolo europeo quindi continua questo bellissimo del mondo finale secondo le altre comunque sempre bene anche gli scorsi anni quindi sto andando sempre più in alto mi piace che continua questo straordinario dualismo ne abbiamo parlato tante volte amici da sempre a cività vecchia compagni di scuola rivali di questa squadra bellissima c'è un altro diciamo così compagno di squadra a questo punto che ti sei messo forse non a caso tra i due luca di tomassi anche tu diciamo vieni dalla lega navale di città vecchia questa fucina di di windsurfisti e com'è lavorare con mattia e daniele come sono durante il raduno come si comportano anche con voi più giovani sicuramente essendo anch'io di città vecchia è sicuramente buono allenarsi con loro infatti essendo appunto più grandi hanno molta più esperienza e allenandomi con loro riesco a migliorare sicuramente meglio ma c'è qualcuno che insomma preferito per te cioè meglio lavorare con mattia meglio lavorare con daniele per una cosa è meglio daniele per un'altra mattia non so pregio e difetti diciamo così che si possono dire per fortuna sì daniele è uno comunque molto veloce con il vento e quindi con il vento c'è sicuramente mi aiuta a migliorare e al contrario mattia con poco vento sicuramente lo reputo uno molto forte e quindi ci aiuta a migliorare col vento più leggero bene quindi vedete che insomma si scoprono dei belli altarini allora qui abbiamo detto che c'è sicilia e sardegna carlo ci abbatti viene da cagliari e raccontaci un po tu sei molto giovane 21 anni qual è la la tua sensazione di essere qui a un raduno del genere cosa e come pensi di crescere attraverso il lavoro che si fa qui siamo una bella squadra siamo un bel gruppo tutti amici siamo sempre uniti appunto ci spingiamo avanti a vicenda poi ci sono mattia e daniele che sono diciamo i caposquadra che vanno diciamo vanno più forte alle regate stanno dimostrando di essere più avanti e noi appunto li prendiamo come diciamo punto di riferimento e lì diciamo che vogliamo arrivare ma quando aspettate che 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 finiranno loro e di prendere il loro posto quanto pensate di dover aspettare e purtroppo siamo più piccoli ma non più piccoli non siamo troppo più piccoli quindi che tocca convivere e bisogna bisogna combattere e poi c'è un futuro tutto da scoprire lo sarà l'ultima domanda faremo un giro rapido su quello che sarà il futuro il prossimo quadriennio del del windsurf dalla sardegna alla sicilia antonino caggiavi tu sei venuto praticamente da casa qui dietro l'angolo ma dormi a casa durante questo raduno o dormi qui a trapani perché sei di palermo no si sono di palermo e la scorsa settimana abbiamo preso l'albergo insieme ai ragazzi e abbiamo dormito qua con armando il mio allenatore questa settimana abbiamo scelto invece di fare avanti indietro perché più economico e ci trovavamo meglio la piace sottolineare agostino che diciamo il ruolo anche degli aggregati di questi raduni nel senso che sono atleti comunque in vista e che fanno un'attività importante che quando hanno la possibilità lo possono scegliere o per ragioni geografiche o anche per scelta proprio tecnica partecipano ai raduni da questo punto di vista cosa vedi di diverso da chi magari fa la preparazione di circolo no cos'è cos'è qual è il valore aggiunto di un raduno federale beh il valore aggiunto sicuramente è quello di potersi allenare con tutta la squadra e appunto con mattia e daniele che ora come ora sono nei top 10 al mondo e quindi diciamo era un peccato non non venire a trapani e non sfruttare questa occasione e quindi col circolo e il circolo dato a disposizione armando il gommone per potersi venire allenare qua e noi abbiamo colto l'occasione subito proprio occasione da cogliere al volo invece qui abbiamo figlio d'arte possiamo definirti così insomma no l'avete anche sentiti nelle interviste individuali che trovate sempre sul sito della federazione nelle nelle aree dedicate alla preparazione olimpica nicolò renna papà vasco ha una scuola sul lago di gara sull'alto guarda e quindi tu insomma non potevi farne a meno dai adesso raccontaci però il tuo punto tecnico e umano e sportivo a questo inizio di stagione olimpica visto che sei molto giovane vieni da un olimpiade giovanile insomma è pure io sono messo abbastanza bene mi sento in forma diciamo e adesso vediamo in australia come comandò comunque seconda regata internazionale per me classe dei segni con i più grandi e vediamo che obiettivi si può dare uno così giovane come te di fronte a un programma intenso come quella stagione olimpica che ci aspetta non lo so adesso in in australia non so cosa potrei aspettarmi comunque di fare nei primi venti nella top 20 vorrei rientrarci insomma non è poco assolutamente non è poco chicco riccardo belli tu sei stato atleta tanti anni tanto sei stato atleta e quindi hai vissuto l'altra dall'altra faccia diciamo così dall'altra parte i raduni la preparazione federale eccetera adesso farlo da allenatore cosa può portare la tua esperienza di ex di ex di ex atleta diciamo così e cosa come senti proprio di partecipare anche umanamente ai sogni alle speranze di questi ragazzi e guarda secondo me il contributo più grosso che ho dato io inizialmente ai ragazzi quello di cui parlava un po daniele prima il fatto che sono stato uno dei primi allenatori che scendeva dalla tavola e diventava allenatore quindi conoscevo bene l'attrezzo ed è stato semplice per me parlare la stessa lingua e quindi cercare di descrivere quelle sensazioni che loro provare sulla sulla tavola e relativamente alla squadra tu parli di sensazioni la sensazione che più cerco di conservare che più sono fiero di questo gruppo e del fatto che come diceva Carlo prima si tirano il collo in acqua a tutti però poi la sera a tavola ci si ritrova tutti insieme a ridere scherzare anche a prendersi in giro magari sulla giornata di allenamento su chi è andato peggio su chi è andato meglio senza però mai scadere in quell'agonismo brutto che poi porta a separarci a lavorare per per vie traverse invece questo modo si lavora bene e tutti insieme lo spirito di squadra che è una delle diciamo così dei valori importanti che negli ultimi nell'ultimo quadriennio è stato proprio posto anche dalla direzione tecnica dalla presidenza stessa della federazione alla squadra olimpia allora ultimo giro abbiamo detto il futuro ci riserva un nuova una nuova tavola vela dotata di i foil ormai i foil sono imprescindibili vi chiedo chiedo a tutti un parere su come cambierà la tavola vela e quindi anche come cambierà l'approccio di voi atleti beh secondo me non cambierà molto comunque questa tavola vela perché se uno secondo me c'ha il manico sul windsurf sia andare con l'R6 che andare sul foil non sarà un problema per noi quindi 1 a 0 diciamo di bella tranquillità sentiamo questo era nicolò sentiamo agostino antonino agostino antonino agostino sentiamo antonino e no per noi giovani secondo me l'accesso al foil è una cosa abbastanza positiva perché tra virgolette ricominciamo tutti da zero e quindi mattia e daniele magari che hanno riuscito a arrivare in questi anni nella top 10 del mondo ora si ritrovano a ricominciare appunto da zero e magari può dare un po fastidio però per noi giovani penso sia una cosa abbastanza positiva carlo io secondo me pure non cambierà come ha detto nicolò non cambierà un granché io sono non sono contento perché comunque alla fine mi stavo divertendo con l'RSX stavo diciamo imparando adesso appena cominciate a imparare mole esatto però allo stesso tempo sono contento perché a Cagliari ci sono tante altre persone che praticano il foil ma non hanno diciamo l'interesse olimpico quindi magari quando starò a casa avrò qualcuno con cui uscire si guarda c'è anche luna rossa che pratica foil dalle parti di Cagliari daniele come la vedi ma io credo che comunque è un'innovazione tra virgolette quindi porterà ancora più sviluppo anche nei circuiti delle gare professionistiche come il pva già loro lo fanno quindi andremo sicuramente a lottare con altra gente ancora più esperta di noi che già si allenano da anni e vanno forti quindi noi spero che riusciremo a arrivare al loro passo bisogna un po' resettare luca io pure sono contento di questo cambiamento perché comunque è un'attrezzatura nuova e sicuramente più secondo me molto più bello da vedere spero che aumenti anche le persone aumentino in questo rush finale Mattia e il foil che verrà? Beh a me mi trovi un po' meno entusiasta di questo cambiamento non tanto per la tavola che appunto è una tavola molto innovativa che vola divertente ma per il livello a cui siamo arrivati adesso che appunto è un ottimo livello e questo nuovo ingresso di questa nuova tavola avvantaggerà molto i giovani e i vecchi di questo sport che appunto il prossimo quadrienne magari fisicamente non avrebbero più retto altre quattro anni e quindi rimette in gioco moltissima gente che adesso non era o perlomeno nei prossimi quattro anni non sarebbe stata lì però accettiamo la sfida e per ora io penso molto più a questo anno che non sto molto mi sembra pure giusto mi piace sia accettiamo la sfida sia sono un po' concentrato sull'ultimo anno allora io chiudo con questa battuta a tutte e due diciamo che loro insomma sono i papabili di questo Tokyo 2020 vi chiedo solo una cosa al volo se ti dico in oscima cosa ti fa pensare l'olimpiade ci sarà giugno anzi luglio scusa quindi ancora la strada lunga perché abbiamo un mondiale una coppa del mondo in europeo credo che sono le tre tappe fondamentali di quest'anno sicuramente la sfida tra me e Mattia penso ancora tutto aperto credo tra di noi tutto aperto Mattia stessa cosa pure a te in oscima a cosa ti fa pensare al sushi e alla regata più bella della mia vita dell'altro anno quindi nulla si è conclusa con con la medaglia d'argento che appunto è stata una medaglia combattuta fino all'ultima prova erano in seppo a giocare per due posti e quindi un ottimo ricordo e nulla amo il sushi allora viva il sushi viva le tavole viva trapani grazie riccardo belli dell'isca niccolò agostino antonino carlo daniele luca e mattia grazie a tutti grazie a tutti